Il 18-10-2018 l'Assemblea regionale siciliana ha varato la cosiddetta legge Fava dall'onorevole Claudio Fava che è stato il promotore, una legge che recita in questo modo obbligo dichiarativo di appartenenza a istituzioni massoniche dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti dell'Aggiunta regionale e degli amministratori locali. Quindi questa legge è stata votata a nostro modesto giudizio, nostro perché? Perché noi abbiamo un'associazione che si interessa di queste tematiche, l'associazione si chiama Grande Oriente dei Tre Mari, riteniamo che sia molto discriminante e limita la libertà di associazione e la libertà personale. A questo gioco noi non ci stiamo, riteniamo che sia una legge iniqua e ingiusta e per questo motivo abbiamo invitato l'Avvocato Scontrino, che dal punto di vista giuridico ci spiegherà perché non è giusta questa legge. Abbiamo invitato anche l'Onorevole Eleonora Locurto, che ha difeso strenuamente la libertà di essere massoni, senza essere discriminati. Ha fatto una battaglia all'interno dell'Assemblea regionale, purtroppo l'Assemblea ha deciso in altro modo. Avremo pure la possibilità di incontrare in quell'occasione, in questo evento che si svolgerà il giorno 22 giugno alle ore 18 all'Otel Tirreno, avremo occasione di incontrare il professore Franche Eugeni, docente di scienza e filosofia, che ci parlerà della massoneria tra il 600 e il 700.